muore in ospedale sporta denuncia i familiari chiedono che venga fatta luce sul decesso avvenuto al policlinico di palermo della trapanese innocenza tobia la musica per ricordare nino via ieri pomeriggio presso la chiesa delle anime sante del purgatorio la banda di favignana ha eseguito una nuova marcia funebre dedicato al giovane ucciso nel 2007 torna il festival delle identità culturali al via la terza edizione volta a coinvolgere gli studenti delle scuole del territorio buonasera e bentrovati con l'edizione serale del tg sud iniziamo subito con la cronaca muore al policlinico di palermo i familiari sporgono denuncia voglio fare chiarezza sul decesso di mia madre se fosse morta sotto i ferri cioè durante l'operazione al cuore me ne sarei fatta una ragione alla luce del suo pregresso clinico era infatti dializzata mia mamma però è morta a causa di un intervento di routine come l'hanno definito gli stessi medici rassicurandomi dopo l'operazione cardio chirurgica è stata infatti sottoposta anche a un drenaggio ai polmoni che le è stato fatale ipotizzando che la donna possa essere stata vittima di un caso di malasanità salvatore catania 42 anni residente a trapani asporto denuncia alla polizia innocenza tobbia 68 anni e deceduta al policlinico paolo giaccone di palermo dove era stata ricoverata lo scorso 12 febbraio due giorni dopo la paziente entrata in sala operatoria per l'impianto di tre bypass l'intervento racconta il figlio è perfettamente riuscito e dopo quattro giorni di ricovero in terapia intensiva mia madre veniva trasferita nel reparto di cardiologia per completare il decorso post operatorio il 26 febbraio alla paziente veniva però eseguito una lastra al torace che ha riscontrato la presenza di una macchia ai polmoni sottoposta tre giorni dopo un nuovo controllo i medici del capologo siciliano avevano notato che la macchia era aumentata di volume così informavano salvatore catania che la madre doveva subire un intervento di drenaggio per la rimozione del liquido ho avuto rassicurazione rileva il figlio che si trattava di un intervento che non comportava alcun rischio qualcosa però sarebbe bandato storto cosa sarà compito della magistratura accettarlo sta di fatto che un'ora e mezza dopo l'intervento i medici hanno contattato il figlio dicendogli che la paziente era deceduta salvatore catania adesso vuole la verità e asporto denuncia alla questura di palermo chiedendo che venga avviata un'indagine frattanto sulla vicenda è intervenuto il policlinico la direzione del paolo giaccone si legge in una nota esprime la sua vicinanza il proprio cordoglio alla famiglia della signora tobia per la grave perdita è già stato avviato preciso il documento un approfondimento interno attraverso il risk management attivando la procedura per la comunicazione dell'evento avverso al ministero della salute convocando un audit per la verifica dei fatti accaduti a favignano continua a tenere banco la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione nei confronti del sindaco forgione alla replica del primo cittadino ha risposto il circolo delle isole egadi di fratelli d'italia continua a tenere banco la mozione di sfiducia presentata da sette consiglieri comunali nei confronti del sindaco di favignano francesco forgione il primo cittadino chiaramente non ha esitato a rispondere ma non si è fatto attendere neanche la replica dell'opposizione rimaniamo stupiti dalle gravi accuse che forgione rivolge ai consiglieri che hanno presentato una sfiducia nei suoi confronti ha scritto in una nota il circolo delle isole egadi di fratelli d'italia ricorrere alla cultura del sospetto è sempre stata la strategia della sinistra e per coprire i propri fallimenti si ipotizzano chissà quali trame complottiste il concetto è semplice governi bene hai la fiducia di tutti governi male devi chiudere la tua esperienza amministrativa fratelli d'italia isole egadi in pratica accusa forgione di una serie di fallimenti come la mancanza di capacità organizzativa e la perdita progressiva della fiducia da parte dei suoi concittadini e dei suoi consiglieri per questo motivo conclude il circolo nella nota perde la maggioranza così come ha perso i consensi sull'isola è il caso che questa sua sindacatura si interrompa per rilanciare una terra che altrimenti rischierebbe di perdere l'occasione più grande quella della liberazione del riscatto da personaggi in cerca d'autore come forgione all'opposizione ha però risposto il gruppo vivere egadi e sorprendente scrive il gruppo che questa azione sia stata intrapresa proprio ora le motivazioni della mozione di sfiducia adottate dai consiglieri firmatari risultano prive di fondamenta male argomentata e costruita ad hoc per dare credibilità a questa improvvisa accelerata dispiace che i sette consiglieri comunali pur di alimentare il malcontento generale non dierono invece importanza alle esigenze reali della comunità egadina considerando che giunti alle porte della stagione estiva non avere un'amministrazione comunale è un grosso rischio davvero è più importante la propaganda politica del futuro delle egadi il gruppo consigliare vivere le egadi concludono e rimane dalla parte della trasparenza dell'onestà del bene comune e del sindaco francesco forgione e ieri pomeriggio presso la chiesa delle anime sante del purgatorio si è tenuto un concerto a cura della banda di favignana che ha presentato una nuova marcia funebre dedicata ad antonino via tradizione musica sono queste le caratteristiche del concerto che si è tenuto ieri pomeriggio presso la chiesa delle anime sante del purgatorio di trapani quello di ieri è stato un concerto di marce funebri della tradizione trapanese collegate con le marce funebri della settimana santa in spagna l'evento infatti è stato intitolato settimana santa italia spagna quasi un gemellaggio insomma tra i due paesi e non è ovviamente un caso che a dirigere il corpo bandistico maestro giuseppe beninati di favignana sono stati un maestro italiano e un maestro spagnolo la manifestazione di ieri pomeriggio inoltre ha visto anche la partecipazione di don alberto genovese rettore della chiesa delle anime sante del purgatorio di trapani e dell'associazione la lavanda dei piedi del cedo dei pescatori durante il concerto poi è stata presentata al pubblico una nuova marcia funebri composta dal maestro silvio barbara ed eseguita dalla banda di famignana non una semplice marcia ma qualcosa di speciale perché 5 gennaio questo è il titolo è dedicata a un giovane trapanese ucciso il 5 gennaio del 2007 antonino via il maestro e compositore silvio barbara è infatti il cognato di antonino via e ha voluto realizzare e dedicare una musica a quel ragazzo che sacrificò la sua vita in favore di un collega tanto da essere riconosciuto con la medaglia d'oro al valore civile alla memoria riparte con due appuntamenti il festival delle identità culturali madre metiterraneo il servizio il comune di trapani sotto la guida dell'assessorata alla cultura e con la direzione artistica della giornalista marisa danna continua ad arricchire panorama culturale locale con la terza edizione del festival delle identità culturali madre mediterraneo è rivolta in particolare agli studenti attraverso una variegata proposta di spettacoli incontri concerti e proiezioni cinematografiche dopo l'edizione di ottobre il festival riparte con due imperdibili appuntamenti nel mese di marzo domani presso il cineteatro ariston si terrà una doppia proiezione straordinaria del film ciurè di giampiero pummo vincitore del prestigioso premio come miglior pellicola al trapani film festival durante l'evento il regista e l'attrice vivian bellina entratteranno il giovane pubblico svelando in retroscena della fortunata produzione che affronta con coraggio l'omotransfobia in una palermo autentica e priva di stereotipi una profonda riflessione sul mondo lgbt attraverso il convolgente linguaggio del cinema incoraggiando il pensiero critico l'otto marzo invece in occasione della giornata internazionale della donna la sala sodano ospiterà alle ore 18 note di donne degne di nota clara fanny e le altre note dal silenzio una conversazione concerto curata e condotta da anna maria sollima che metterà in luce il talento compositivo femminile attraverso l'esecuzione al pianoforte del duo composto da paola biondi e debora brugnalti un pomeriggio dedicato alle coraggiose e tenaci compositrici donne che hanno sfidato ai pregiudizi di un mondo dominato dall'universo maschile il distretto turistico della sicilia occidentale presenzerà alla borsa internazionale del turismo di berlino a partire da domani 5 marzo fino a giovedì 7 il distretto turistico della sicilia occidentale sarà presente alla borsa internazionale del turismo di berlino fiera leader per l'industria del settore turistico quest'anno sono attesi oltre 25 mila partecipanti il distretto turistico della sicilia occidentale sarà presente insieme agli altri 5 distretti della siciliana e lo stand istituzionale della regione siciliana l'assessorato regionale a turismo guidato dall'assessore Elvira Amata mira con la propria partecipazione alla borsa internazionale del turismo di berlino a rafforzare le energie per implementare il turismo nel mercato tedesco nel percorso intrapreso con gli altri distretti siciliani per promuovere strategie comuni per rilanciare il settore il distretto della sicilia occidentale con la presidente rosalia delì presenterà le proposte e le destinazioni del west of sicily dalla natura alla cultura in ogni periodo dell'anno sarà il tema dell'intervento della presidente dalì alla borsa di berlino la destinazione a west of sicily afferma rosalia delì ha ormai consolidato la sua offerta integrata nel territorio della provincia in ogni periodo dell'anno oltre alla stagione estiva fiore all'occhiello delle attività turistiche legate al mare le esperienze che attraggono il turista sono sempre più diversificate settoriali, archeologiche, artistiche, culturali e no gastronomiche sportiva all'aperto e scoperta delle tradizioni la borsa di berlino conclude un'ottima occasione di confronto con il mercato tedesco già presente nella nostra provincia che consentirà di rafforzare azioni volte alla valorizzazione del nostro brand sicilia occidentale nei mercati europei ringraziamo l'assessore amata per averci consentito di cogliere questa importante opportunità Bene, questa era l'ultima notizia adesso linea Stefania Renda per l'ampia pagina sportiva del lunedì da parte mia e di tutta la redazione un buon proseguimento di serata